Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Gemma Gamer Oggi sono qui a portarvi il game del mio primo cala la notte Con due miei amici Dakma e Fratto che me ne ha aiutati in questa impresa E grazie a loro sono riuscito anche a sbloccare l'arma da supporto il re dei ratti Una pistola fighissima che poi vi farò vedere in qualche altro video Purtroppo non si sentirà l'audio del gioco per via di qualche problema audio Vi lascio solo la partita perché non posso fare il commento all'intero di tutto il match Dato che non saprei nemmeno come spiegarvelo Vi visto che è il mio primo cala la notte in assoluto Io ho seguito le loro istruzioni e siamo andati benissimo A quanto pare che siamo riusciti a sconfiggere il boss con meno di 6 minuti avanzanti Quindi è stato fatto bene Comunque noi ci siamo concentrati nel dividerci le armi Io per esempio avevo una geranzia d'arco e un'arma solare Poi c'era chi aveva vuoto e arco e chi solare e vuoto Insomma ci siamo un po' divisi così le armi Il pezzo importante di questo cala la notte è stato il torace esotico Ovvero il flusso di Raiden che vi metterò una foto qui Che utilizzava il mio amico di squadra Che permette agli attacchi rapidi e consecutivi con bastone ad arco Quindi con la super del cacciatore Di aumentare i danni e la durata E le abilità di classe Quindi tutte le abilità del personaggio si ricaricano più velocemente Quando si usa una sottoclassa d'arco Quindi raga avevate praticamente sempre la ulti pronta Che si ricaricava E abbiamo molto abusato di questo Soprattutto nel finale perché il boss ragazzi lo vedete alla fine L'abbiamo scoffitto in meno di 10 secondi Quindi non so se è un record o qualcosa Ma l'abbiamo fatto praticamente velocemente Detto questo ragazzi io stavo utilizzando Un lanciarazzi Che ve lo consiglio e che è importantissimo Secondo me avere un lanciarazzi Poi un impulsi e un automatico Se potete utilizzate un ricognizione Che i ricognizioni sono anche importanti in queste operazioni Mi dispiace avervelo portato tardi questo cala la notte Perché per via di vari impegni non ho potuto caricarlo prima Dato che da ieri è uscito il secondo cala la notte Spirale invertita Che non so se riuscirà a portare sul canale Però vediamo un po' prossimamente Detto questo ragazzi adesso vi lascio al video Fatemi sapere qui sotto nei commenti Come avete affrontato voi questo primo cala la notte Come vi siete trovati E soprattutto che tattica avete utilizzato per sconfiggere il boss finale Poi se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace Condividete e iscrivetevi al canale Noi ci vediamo al prossimo video Un saluto da Gemma Game Noi ci vediamo al prossimo video Noi ci vediamo al prossimo video Ciao! 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 Ciao!